Il risultato è arrivato per pochi voti ma comunque è una bella vittoria. Sì, sicuramente una vittoria sopperta, bellissima, una vittoria che mi regala un grande impegno verso la città e verso i cittadini, un impegno per il buon governo, un impegno per la città. Adesso c'è la festa, adesso è il momento di festeggiare con i suoi sottotitoli. È il momento degli abbracci, dei baci, è il momento di condividere con tutti questa grande possibilità e questa grande gioia. Al ballottaggio arrivava da sfavorito, arrivava in svantaggio, ha recuperato e alla fine ha vinto. Ma è una vittoria costruita su un percorso fatto di temi, fatto di contenuti, fatto di impegno, fatto di rapporti. Un percorso insomma che ci regala la grande opportunità di amministrare la città, la città che amo. Assessore Paolucci, è contento anche lei stasera? Tantissimo, ha vinto uno splendido centrosinistra a Vasto e soprattutto una splendida e bella persona per Vasto e per l'Abruzzo.